Buongiorno, benvenuti all'Antonio Camanoate per una domenica, oggi il 22 marzo, fatta di passioni, adrenalina, tante emozioni che sono racchiuse in questa quarta edizione del concorso nazionale di danza politica, che sono lieta di presentarvi, dove i giovani danzatori inizieranno proprio qui la loro carriera professionale, in quanto verranno giudicati da una giuria altamente qualificata, che giudicheranno proprio le loro abilità artistiche, le loro attitudini nella danza, nonché il loro grado di professionalità e la capacità di esibirsi di fronte a una giuria di livello internazionale, in quanto la commissione tecnica è composta da Giordi Ancù, ballerino ed attuale internazionale, Guy Burzon, coreografa di forma internazionale, Susanna Vestrani, come una donna pagina di passi contemporanea, Martimiliano Balestra, valerino disegnante di Dante Pop, Maria Luco, storica e studica di Danza, membro dell'International Day di Gliudin. Il concorso si avvale inoltre della partecipazione artistica e professionale di Simone Lolli, coordinatore di Danza Festival. Noi oggi sono i premi di questo concorso e le borse di studio. Vi cito alcune. Borse di studio per i Danza Festival, borse di studio per i Danza Estate, borse di studio Dance House, offerte dalla signora Susanna Beltrami, borse di studio per Arti Danza Città di Loggiano, borse di studio per In Danza e Arte, offerte dalla signora Anna Pagano, borse di studio per il Danza e il palcoscenico. Inoltre, questa gara prevede anche dei premi speciali. Premio speciale in biglietto di ingresso a per i Danza Festival 2015, premio speciale Dance Art Production, premio speciale Flavio Espaziano e premio in gioielli in abbigliamento di danza. Voglio ricordare inoltre che il concorso sarà in diretta streaming su un mondo web tv di Enzo Conte. Bene, la gara si divide in varie categorie che sono hip hop, classico, neoplassico, modern e contemporaneo ed infine anche composizione coreografica. Bene, diamo inizio alla gara proprio con la categoria di hip hop, quindi non mi resta che dare ai giovani danziatori un forte bocca al lupo e augurare buon divertimento a tutti voi lì in platea. La gara comincia con la categoria di hip hop, una sola sezione di un'oress. centro sportivi Portici Fabiana Lizzo. Bruno Roche. Grazie. 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 Categoria 2 Pop, sezione di Norris, Centro Sportivi Portici Alex e Laura Clus. Categoria 2 Pop, sezione di Norris, Centro Sportivi Portici Alex e Laura Clus. Categoria 2 Pop, sezione di Norris, Centro Sportivi Portici Alex e Laura Clus. Categoria 2 Pop, sezione di Norris, Centro Sportivi Portici Alex e Laura Clus. Categoria 2 Pop, sezione di Norris, Centro Sportivi Portici Alex e Laura Clus. Categoria, Centro Sportivi Portivi Portici Alex e Laura Clus. Ancora in categoria hip hop, gruppo, sezione Unores, centro studi dance accessor, red da beat. Ready or not, here I go, you can't hide, gonna find you and take it slowly. Hey, 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 hey. Grazie a tutti. 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 . 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 il momento delle borse di studio. che è molto importante per le scuole. Un applauso per incoraggiare. La borsa di studio premia Bill Goodson. Borsa di studio Serrento Danza. Complimenti veramente. Bravamente. Grazie. Premio speciale poetiche e danza ad Alex e Laura Piu. premio Vittorio. Sì, subito, infatti come eravate prima a non parlare, no? Siete contenti? Wow. Che emozione. Ciao. Premio speciale in danza e in arte premia Anna Pagano. Centro sportivi Vortici Jump Around. Prego, prego. Correte, correte. Ma quanto sono belli. Chi è il capogruppo? Come ti chiami? Millenia. Grazie. 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 Per far porto al terzo posto, centro arte e danza Rebans Crew premia Simone Lolli. Grazie. 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 Dove è il capogruppo Elena? Elena, devi essere un capogruppo, eh? Ti devi guidare bene. Terzo posto, centro arte e danza Rebans Crew premia Simone Lolli. Grazie. 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 Se entro due minuti non entri alla scuola e previ non verranno consegnati. Complimenti. Grazie. 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 Al primo posto 5 canti scelosate, poi è Andrea Massimiliano Barretta. Bene, per la categoria hip hop signore. Per la categoria hip hop signore, al terzo posto abbiamo spazio danza, band e roll. Complimenti. Al secondo posto abbiamo un cifro da alzacera ad art pop, premia Massimiliano Palestra. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito alla fine uscito di questo evento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.